Anche sul fronte femminile con la Comense che ha vinto contro Napoli. Domenica dopo domenica è una vera sorpresa questa Comense che continua a vincere. Dopo aver superato sette giorni fa Pozzuoli in casa, ieri il bis a Napoli. Una gara che le ragazze di Corsi Barbiero hanno risolto nel finale, 72 a 62 il punteggio, dopo tre quarti di ampio equilibrio combattuti su entrambi i fronti. Con Zampella e Infortunata decisive sono state Fazio e Armon, la prima con 14 e la seconda con 18 punti. E per la formazione nero stellata è davvero un ottimo avvio di stagione, finora solo una sconfitta quella di Schio. Il prossimo turno ancora una trasferta difficile contro Lombertide. Cauto l'allenatore, abbiamo dimostrato che la squadra sta crescendo ha detto, ma viviamo il nostro campionato alla giornata.